Il 19 aprile prenderà ufficialmente in via l'ostensione della Sindone che impegnerà a Torino per 67 giorni fino al 24 giugno. L'Agenzia di Sicurezza Interna lancia un allarme terrorismo e si prepara a contrastare possibili attacchi di anarchici, antagonisti, jihadisti e lupi solitari. 4 incondotte e sospensioni fino a 15 giorni per 14 studenti del liceo scientifico di Cuneo. Sono accusati di atti di bullismo nei confronti di un loro compagno ma i genitori li difendono e parlano di un semplice scherzo. Tutti contro il progetto del teneriscaldamento, le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono alla Giunta di ritirare la delibera e di riscrivere la pratica sottoponendola alle commissioni competenti. Disoccupazione in crescita in molte province piemontesi ma ad Alessandria il tasso è realmente preoccupante. A Cuneo invece la situazione migliore. Nuove edizioni di Monitor, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo il giornale con la pagina della cronaca, lo abbiamo sentito anche dai nostri titoli. Mancano due settimane esatte all'inaugurazione dell'ostensione 2015 della Sindone dal 19 di aprile fino al 24 giugno. Un evento che impegnerà Torino per ben 67 giorni, oltretutto le 21 e le 22 giugno in città. Ci sarà anche Papa Francesco. L'Agenzia di Sicurezza Interna lancia però un allarme e terrorismo e si prepara a contrastare possibili attacchi di anarchici antagonisti ma anche giadisti e lupi solitari. La vigilanza è massima. Ci spiega tutto nel servizio. Margherita Costa. L'attenzione dell'intelligence è alta sugli eventi che nei prossimi mesi porteranno in Italia milioni di visitatori. L'ostensione della Sindone a Torino, l'Expo a Milano e il Giubileo a Roma che inizierà il prossimo dicembre. Lo ha detto Arturo Esposito, direttore dell'Aisi, l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, in audizione al Copasir. Monitorata sia la minaccia interna, quella dei movimenti antagonisti anarchici, che quella giadista. L'incubo imprevedibile però è sempre quello del lupo solitario, un'azione molto difficile da prevenire anche per i nostri servizi segreti. Al momento non c'è evidenza di progetti criminali specifici contro queste manifestazioni, ma è ovvio che il flusso di milioni di persone che arriveranno in Italia comporti una serie di rischi e conseguenti attività preventive da parte dell'Aisi e delle Forze di Polizia. Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo si sta già confrontando sui possibili pericoli. Sorvegliati speciali saranno stazioni, porti, aeroporti e gli altri obiettivi sensibili. Sarà un lavoro di monitoraggio molto delicato, dicono, che durerà in totale 15 mesi. In particolare si chiama Rete No Sindone, il complesso di iniziative che alcuni esponenti anarchici in chiave anticlericale hanno già rilanciato in vista dell'ostensione. Il progetto ricalca quello del 2010, quando gli attivisti diedero vita ad una serie di contromanifestazioni tra provocazione, dileggio, vandalismo e gogliardia. Il 21 giugno, annunciano in documento, torna il Papa a Torino per l'ostensione di quel lenzuolo. Il messaggio si rivolge a tutti quelli che hanno amore per la libertà e disprezzo per le costrizioni, limitazioni, e i poteri della Chiesa. Certo è che dopo l'attentato al Museo Bardo di Tunisi, in cui hanno perso la vita quattro piemontesi e sono rimasti feriti altri 11 italiani e prima ancora con gli attacchi di Parigi a Charlie Hebdo, l'Europa non si sente più al sicuro. Intanto l'ostensione della Sindone inizierà il 19 aprile ed impegnerà alla città per 67 giorni fino al 24 giugno. Sono già più di 800.000 le prenotazioni registrate finora. Ancora con la cronaca ci spostiamo però a Cuneo perché è arrivato un 4 in condotta in pagella e una sospensione fino a 15 giorni che vuol dire quasi sicuramente una bocciatura per quest'anno. Il provvedimento disciplinare è a carico di ben 14 studenti del liceo scientifico di Cuneo per accusati di atti di bullismo nei confronti di un loro compagno. I genitori però li difendono. Si sarebbe trattato solo di un semplice scherzo. 4 in condotta e sospensioni dalle lezioni fino a 15 giorni. Queste le esemplari punizioni inflitte a 14 liceali cuneesi accusati di bullismo. L'episodio incriminato si riferisce a circa un mese fa quando la classe del liceo scientifico di Cuneo si trovava in gita a Roma. Durante l'ultimo giorno in albergo un ragazzo a quanto pare ubriaco viene preso di mira dai compagni che lo denudano, lo deridono e gli bruciano i peli con un accendino. L'episodio viene filmato. Il video finisce poi nelle mani di un genitore che interpella la dirigente scolastica, la signora Germana Muscolo, la quale giunge ai provvedimenti citati in apertura. Immediate le reazioni dei genitori dei ragazzi, che si sono schierati dalla parte dei propri figli. Né bullismo né violenza non meritavano tanta severità, questa è l'opinione comune. In parziale difesa degli studenti sospesi si è schierato anche il vicepresidente del consiglio comunale di Cuneo, Carmelo Noto, che ha commentato in un post apparso sul suo profilo Facebook. Liceo scientifico di Cuneo, atto di bullismo e reazioni da parte dei genitori della presite. Mio pensiero, non è da sottovalutare anche se le ragazzate le abbiamo fatte tutti, soprattutto in gita. Un invito alla presite, non faccia perdere l'anno ai ragazzi. Le punizioni esemplari spesso servono solo a far puntare il dito e a creare ulteriori tensioni. Si trasformi la punizione in impegno sociale presso qualche cooperativa di sostegno a ragazzi disabili e se l'obiezione è che sono minorenni e non si può, si coinvolgano i genitori che minimizzano l'accaduto, forse può essere d'aiuto a tutti. Una posizione condivisibile, quella di Noto. L'episodio è da condannare, ma è vero anche che probabilmente le sanzioni sono troppo drastiche. Non c'è stata violenza, non ci sono state gravi conseguenze e il filmato, contrariamente a quanto accade spesso, non è finito sui social network. Sono allo stesso tempo fuori luogo i genitori dei ragazzi sospesi, scesi in campo per difendere a spada tratta i figli, ricorrendo agli organi di stampa senza considerare che quello commesso dai ragazzi è in ogni caso un atto evitabile. Una cosa è certa. Trent'anni fa, probabilmente, l'accaduto non sarebbe mai uscito dalla stanza di quell'albergo. Parliamo adesso di infortuni sul lavoro. Diminuiscono gli infortuni in tutto il Piemonte, anche in provincia di Alessandria. Le spiegazioni però sono due. C'è meno lavoro oppure c'è più sicurezza nei cantieri? Lo abbiamo chiesto al segretario della CGL di Alessandria, Tonino Paparato. In Piemonte, in provincia di Alessandria, si assiste a una riduzione degli infortuni sul lavoro. È una buona notizia? Come possiamo spiegare questo fenomeno? Sicuramente positivo nei dati. Sì, in effetti una ricerca fatta dall'università, peraltro da noi suggerita e anche finanziata, sembrerebbe dire che la tendenza piemontese e alessandrina sia un po' quella nazionale, cioè una riduzione nei fatti degli eventi di infortunio. E quindi se questo fosse accertato definitivamente, sicuramente sarebbe un buon elemento, un buon segno. C'è da dire questo, che quando si parla di questi temi spesso bisogna un po' interpretarli. Allora, se io penso che al fatto che gli infortuni diminuiscono sono contento, poi mi domando anche ma non è che diminuiscono perché è diminuita la produzione, perché è evidente che se le aziende sono chiuse, per fortuna gli incidenti non ci sono, ma solo perché magari non c'è la produzione. Cosa diversa se invece la riduzione degli infortuni avviene per altri motivi, magari perché c'è un'attenzione delle aziende, un'attenzione da parte dei lavoratori, magari degli interventi sugli impianti e sulle macchine. Probabilmente, anzi sicuramente quello è ciò che suggerisce la ricerca, i due elementi andrebbero messi assieme, cioè in qualche modo si deve tener conto dell'uno e dell'altro, perché la crisi continua a esserci e quindi le produzioni continuano a essere basse. Ma è indubbio che negli anni qualche intervento sulle macchine e l'attenzione sulla qualità anche da parte dell'azienda è sicuramente aumentata. I nostri lavoratori hanno anche cominciato a prendere negli anni coscienza anche di questi temi e quindi questo sicuramente aiuta. La Procura aprirà un fascicolo sulla vicenda di Tommaso. Marco Ledile, il Tribunale fallimentare, come forse ricorderete, ne abbiamo parlato anche nel corso delle passate edizioni del nostro giornale, ha annullato la procedura in base alla quale il marchio e l'azienda della casa automobilistica erano state aggiudicate ad un'accordata svizzero-lussemburghese, la L3 Holding. Quest'ultima però non ha versato i due milioni di euro, cifre in base alla quale si era aggiudicata l'asta. Ora, il gruppo specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione della Procura della Repubblica di Torino vuole capire se la gara sia stata regolare e se i creditori siano stati danneggiati. Intanto gli 800 lavoratori dello stabilimento di Grugliasco attendono la nuova asta di fine aprile per conoscere il loro futuro. Andiamo adesso ad Asti perché a quanto pare sono tutti contro il progetto del teleriscaldamento. Le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono infatti alla giunta di Fabrizio Brignolo di ritirare la delibera e di riscrivere la pratica, questa volta però sottoponendola prima del voto alle commissioni consigliari competenti. Il progetto del teleriscaldamento è un'importante scelta per la città di Asti ma ha generato delibere pasticciate senza il parere dei revisori, senza gara pubblica, senza certezze su tariffe vantaggi per i cittadini e la centrale sarebbe prevista in un luogo non adatto, l'ospedale. E' questa la protesta unanime di tutti i consiglieri comunali di minoranza espressa nel corso di una conferenza stampa congiunta nell'ex sala consigliare per dire no al progetto inserito nella recente delibera di giunta. Chiediamo venga revocata la pratica e rifatta completamente e che segua l'iter corretto prima in commissione e poi in consiglio, spiega il consigliere Anna Bosia della lista Civica Uniti per Asti a nome di tutti i colleghi. I consiglieri fanno sapere d'aver pronta una lettera da inviare agli assessori regionali alla sanità e all'ambiente affinché prendano le misure necessarie per fermare il progetto. Il teleriscaldamento è una scelta enorme per questa città, un investimento da 45 milioni di euro destinato a sventrare tutte le vie della città, dare un servizio nuovo e legare per 30 anni questa città all'erogazione di questo servizio. È partito deliberato dalla giunta, quindi una decisione così grossa non discussa in consiglio comunale, poi è approdata in consiglio comunale con pratiche incomplete, raffazzonate e con richiami fatti con i puntini di delibere che non esistevano ancora, quindi in modo scorretto. Viene fatto senza una gara in nome del servizio pubblico. La società che dovrà realizzare e gestire la rete, il Comune avrà in questa società il 5%, quindi non avrà lo spazio, il modo di esercitare il controllo sulla società che gestirà il teleriscaldamento. Non è supportato da studi e da motivazioni buone per dire quali sono gli interessi dei cittadini della città e soprattutto la cosa più grave è che pensa di collocare la centrale di teleriscaldamento anziché in zona industriale dove sarebbe il suo posto nell'area del Cardinal Massaia. Questa è una follia e se mai si arriverà a realizzare questa centrale lì che qualcuno l'abbia detto che è una follia, che non è una cosa assolutamente da fare. Su questo noi siamo assolutamente contrari. Torniamo adesso a parlare del caso degli ex lavatoi di Cuneo perché sulla vicenda interviene anche l'assessore alla cultura del Comune, Alessandro Spedale, che ha cercato di fornire spiegazioni proprio sul perché gli affitti degli ex lavatoi siano stati versati a una società che a quanto pare è inesistente. I dubbi però, nonostante le spiegazioni dell'assessore rimangono, ci spiega tutta la nostra redazione della grande. Torniamo a parlare del caso degli ex lavatoi di Cuneo. Ottenuta la concessione del noto locale cuneese dal Comune per finalità culturali al prezzo stracciato di 250 euro all'anno, la società Tuxpo, Turismo, Cultura e Sport, dopo la ristrutturazione effettuata con denaro pubblico, ha ceduto la gestione della struttura e ha guadagnato 400.000 euro senza muovere un dito. Sulla vicenda ha intervenuto Alessandro Spedale, assessore alla cultura del Comune di Cuneo. Come Comune di Cuneo abbiamo stipulato nel 2004 una convenzione con l'associazione Tuxpo per una gestione ventennale degli ex lavatoi. In questo accordo è stato fissato un contributo di 250 euro l'anno. L'associazione è stata costituita appositamente per seguire il restauro dell'antica struttura e poi per gestire lo stesso immobile. Nel periodo della ristrutturazione dell'antica struttura l'associazione ha anche bilanciato un tot di denaro per acquistare arredi e quant'altro potesse servire per far funzionare e rendere accoglienti i locali. Quello che fa più pensare è questa disparità di cifre che si riscontra tra chi paga per la gestione 250 euro l'anno, ossia la Tuxpo, e dall'altra ne riceve oltre 36.000 all'anno. Ognuno può trarre le conclusioni che crede, sottolinea Spedale, ma ribadisco che il rapporto tra comune di Cuneo e Tuxpo è dato esclusivamente dal contratto di concessione ventennale. Tutto il resto non compete a noi. Noi non abbiamo voce in capitolo. Certo, lo sproposito tra il dare e il ricevere balza agli occhi in modo clamoroso, anche perché la manutenzione ordinaria dell'immobile è a carico di chi affitta, quindi la cifra incassata per l'affitto rimane pressoché intatta. Come comune è un fatto che non ci riguarda. La Tuxpo può organizzare i servizi da mettere a disposizione dei cittadini come meglio crede e sono tutti i servizi che esulano dalla competenza comunale, ha concluso Spedale. I dubbi rimangono. Difficile sostenere che sia normale dare in gestione ad una cifra simbolica, 250 euro, un bene comunale che viene poi messo a reddito da un privato per centinaia di migliaia di euro l'anno. Per non parlare del core business del locale, sotto gli occhi di tutti i cunesi. Di turismo, cultura e sport non c'è traccia. Niente più corsi serali per gli studenti della Facoltà di Economia e Commercio di Torino. La decisione riguarda il Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche. Lo scorso anno la stessa sorte era toccata al Dipartimento di Management. Il motivo della chiusura dei corsi serali è puramente economico, costi troppo alti rispetto ai pochi studenti che seguono i corsi. Gli studenti però non si rassegnano. Subito dopo Pasqua infatti partirà una raccolta firme per chiedere che le lezioni serali vengano ripristinate. Cresce la disoccupazione in molte province piemontesi, ma ad Alessandria il tasso è realmente preoccupante. Se la cava invece meglio, scusate, la provincia di Cunia. Ancora una volta Alessandria è il fanalino di coda e su un tema estremamente importante è sentito, soprattutto in questo periodo, il lavoro. Secondo i numeri forniti dall'Istat, la disoccupazione in provincia è cresciuta moltissimo nell'ultimo anno, tra il 2013 e il 2014, con una percentuale dell'1,7%. Il tasso generale di persone che non lavorano ma che vorrebbero farlo è del 13,4%, un dato tristemente superiore rispetto a tutte le altre province piemontesi e rispetto persino alla media nazionale che si attesta al 12,7%. Sia chiaro, il Piemonte non è messo benissimo. I disoccupati in tutta la regione sono arrivati ad essere 225.750 nel 2014, 12.000 in più rispetto al 2013. Il tasso medio è dell'11,3% ed è la regione del nord Italia che soffre di più la carenza di lavoro. Particolarmente preoccupante è la disoccupazione giovanile, il 42,2% dei giovani tra i 15 e i 24 anni è senza lavoro. In questo panorama la provincia di Alessandria è comunque quella che ha più difficoltà con il suo 12,7%. Cuneo è la provincia con la situazione migliore. La disoccupazione è diminuita drasticamente dal 6,8% del 2013 al 5,3% dell'anno scorso, il valore più basso in regione. Anche Novare e Vercelli hanno aumentato il numero di persone con il lavoro. Stabile Verbagna al 7,3%, mentre anche a Torino, Asti e Biella la disoccupazione è cresciuta pur con percentuali minori. Studiare comunque conviene. La percentuale di disoccupazione è maggiore per chi ha la licenza media e diminuisce per chi ha un diploma o diminuisce ancora di più per chi è in possesso di una laurea. Anche Torino ha preso parte alle celebrazioni per la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. La mole antonegliane si è tinta di blu la presenza di un migliaio di persone che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza a chi deve combattere questa malattia poco conosciuta e poco riconoscibile. In Italia sono più di 500.000 le famiglie che lottano ogni giorno per garantire la serenità, l'istruzione e l'inclusione sociale alle persone autistiche. Hanno partecipato all'iniziativa anche i volontari delle associazioni impegnate nella tutela e nel sostegno alle persone affette d'autismo che hanno allestito attività di promozioni di animazioni in via Montebello nel corso di tutta la giornata. Alle 21, il momento culminante della manifestazione, il grande abbraccio alla mole. Volontari, istituzioni e cittadini si sono stretti intorno al monumento illuminato di blu da Irene per simboleggiare che l'autismo non deve più fare rima con solitudine. Queste sono le immagini della mole antonegliana che si è illuminata di blu con la partecipazione dei torinesi e questo lancio simbolico di palloncini a chiusura della serata. E prima di chiudere il nostro telegiornale invece vi voglio ricordare che venerdì alle 20.45, come tutti i venerdì, su GRP1 c'è la nuova puntata di Atlantide, il talk show di approfondimento della nostra rete. Ospiti del direttore del TG Monitor Giuseppe Cortese saranno come sempre l'opinionista politico Roberto Placido e Vittorio De Martino, segretario generale della FIOM Piemonte, Dario Ortolano, coordinatore nazionale di comunisti sinistra popolare e Claudio Vercelli, storico dell'Istituto Salvemini di Torino, insieme a Davide Catalano che è segretario del Partito Democratico di La Loggia. Tema della puntata La crisi della sinistra e del centro-sinistra, titolo della puntata il venerdì di passione della sinistra. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione, l'informazione come sempre torna con Monitor nei consueti orari su GRP. A presto! Grazie a tutti!